A meno di due mesi dalle elezioni regionali del 20 settembre si continuano a delineare gli schieramenti politici. Clelia Gorga, avvocato civilista ed ex consigliere comunale di Torre il Greco, ha annunciato la sua candidatura. Gorga corre con Campania Libera, lista civica che supporta il presidente uscente De Luca. Anche l'attuale consigliere Michele Langella ha confermato negli ultimi giorni la candidatura per le regionali, sempre con De Luca. Prima di loro anche Monica Ascione e l'assessore Raffaele Arbonio avevano dichiarato il loro schieramento con il governatore e la loro corsa per le urne. Opposta, molto probabilmente, la posizione è il consigliere Valerio Ciavolino, che correrà con Caldoro. Le sue ultime battaglie, condivise sui social, hanno interessato la questione N.U. Torrese e la mai risolta di Atriba per l'ospedale Maresca. Sempre in opposizione a De Luca, al voto ci saranno l'autotrasportatore Marco Manna e l'astrofisica Clementina Sasso. Entrambi hanno abbracciato la causa di potere al popolo per questa tornata elettorale.